L'inizio della prossima settimana sarà rovente e non soltanto per le temperature in rialzo. Lunedì mattina, riunione straordinaria, urgente, del tavolo per la competitività, inserata invece alle 19 in comune a Como. Il sindaco Mario Lucini incontrerà i consiglieri comunali. Al centro dei due vertici il delicato argomento Paratie, dopo i rilievi critici sollevati dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Intanto sulla questione si accende il dibattito politico. Alessandro Fermi, sottosegretario all'attuazione del programma di Regione Lombardia, sottoscrive la proposta del presidente dei costruttori di Lillariani, Luca Guffanti, che dalle pagine del Corriere di Como ha lanciato l'ipotesi di un commissario straordinario per concludere il cantiere. Se fosse necessario, come temo, mettere un punto fermo alla vicenda delle Paratie, non sarebbe da scartare a priori la proposta di un soggetto esterno, in grado di portare a compimento i lavori senza farsi influenzare dalle azioni finora intraprese, ha detto Fermi. A mio giudizio, ha proseguito l'esponente di Forza Italia, le contestazioni mosse dall'ANAC sono estremamente rilevanti e difficilmente scardinabili nella loro totalità. Ho preso atto della fiducia del sindaco di poter andare avanti con il percorso individuato per far ripartire i lavori. Mi auguro che Lucini abbia ragione. Se così non fosse, conclude, penso però che sarà inevitabile azzerare tutto e ripartire. In tal caso, sarebbe una proposta da prendere in considerazione l'intervento di una figura terza. La pensa in maniera apposta a Luca Gaffuri, consigliere regionale del PD. ANAC ha riconosciuto dal punto di vista tecnico la bontà del progetto, ma ha sollevato una serie di problemi procedurali, ha spiegato il Comune presenterà le sue contradduzioni. Credo che l'amministrazione abbia tutte le potenzialità per portare a termine questo complesso intervento, senza ricorrere a soggetti esterni. Grazie.